eccoci qua allora oggi siamo dalla dentista perché molto probabilmente io mi leverò l'apparecchio che ho da tre anni e spero che mi sono messo i gommini perché servono poi quando non ha da tanto tempo l'apparecchio e spero che me lo leverò perché vorrei levarmelo dopo questi tre anni sei contenta? speriamo di toglierla e incrociamo la vita grazie a tutti 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 grazie a tutti